Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Overwatch 2. Io sono Glaciosphere ed oggi andrò a provarle per la prima volta Baptiste con la skin di Overwatch 2. Andiamo subito a leggere quindi le sue abilità. Lancia granate biotico, spara raffiche da tre colpi e lancia granate a un proiettile curativo che agisce sugli alleati vicini alla zona di impatto col tasto destro. Ultra, matrice di amplificazione, crea una matrice che ha doppi danni e gli effetti di cura dei proiettili alleati che ci passano attraverso. Niente male. Abilità maiuscola. Impulso regenerativo all'attivazione cura istantaneamente tra gli alleati vicini, fornendo salute periodica aggiuntiva. La cura istantanea è raddoppiata sui bersagli con meno di metà salute. E campo di immortalità. Lancia un dispositivo che impedisce agli alleati di morire. Può essere distrutto. Passiva stivali potenziali. Teni premuto per saltare più in alto. Non lo fa. Tieni premuto per lo spazio, no? Ah, contro la sinistra, ok. Così, perfetto. Sì, le cose per cui bisogna premere control non è che mi piacciono più tanto, però andiamo. Proviamo questo campione. Vi ricordo che è la prima volta che lo provo. Ecco, infatti ho già sbagliato. Ok, ho tirato un po' di cura a caso. Buono. Oh, come ti permetti. Ok, è un'ammazzata. Buono. Ok, non è andata male come prima volta. Devo prenderci la mano anche con i cooldown dell'abilità. E nel frattempo vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi sta piacendo, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di Baptiste e di Overwatch 2 e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Magari datemi anche qualche consiglio, qualche consiglio, eh? Per giocare al meglio Overwatch 2, eh? O meglio, per giocare al meglio Baptiste. Oh, chi è che mi spara? L'altro Baptiste è molto, molto, molto preciso, eh? Nell'uccidere questi nemici qui. Portate il carro però, raga, vai. Guarda lì che danni che fa quando prendi la testa. Niente male. Come se non fosse mai successo. Un culo da solo anche, non proprio. Eh, raga, però siete andati un culo, eh? Non per dire, siete andati un po' in culo. Eh, boh, il tank e il danno che se ne vanno da tutt'altra parte, non si sa bene per quale motivo. Sto curando un casino. Sto davvero curando un casino con Baptiste. È un po' come Phara. Baptiste, avendo la granata che cura, al posto di vedere, al posto di Phara appunto, i razzi che fanno danno, può fare dei punteggi di cura altissimi. Raga, ma ce la fate? Boh. Fanno un po' cagare quelli del mio team, posso dirlo. Non so se si stiano impegnando apposta per far schifo, oppure... Boh, poverini, fanno schifo e basta. Ma non riescono a far danno, non riescono a capire che devono flancare quel tipo che è là in cima, da tre ore. Raga, dovete uccidere lui. Dovete uccidere quelli di... Cioè, dovete capire sta cosa, ragazzi. Dovete ammazzare quei tipi di altrimenti non potremo mai andare avanti. Perché non prendono qualcosa? Cioè, Genji potrebbe andare a farli fuori, eh, in realtà. Genji in maniera ultra facile. Scala ai muri, ma... E se li fa? Cioè, non scala ai muri, Genji. Usa la sua abilità allo scatto. E niente, continuano a morire qui, ragazzi. Cioè, non capisco davvero. Sto arrivando. Vai. Sto a full vita, vai. Oh, ragazzi. Cioè, qua l'ho salvato proprio alla grande. Ecco, l'ha rimasto da morire. Grandissimo Genji. Non si sa bene per quale motivo abbia deciso di fare questa grandissima stronzata. E niente. Muoio di nuovo. Forse però, Giancarpino ha capito che deve andare su. Anche se non dovrebbe essere Giancarpino quella... Quella che va su lì. A parte che mi ha ucciso Ana. Quella Ana sta facendo dei danni clamorosi. Però, ovvio, quando ti lasciano lì sopra, senza mai prenderti, ad uccidere tutti, tutti sono bravi a far danno. Guardavo lì sopra per vedere se era ancora lì lei, perché sarebbe stato davvero stupido. Niente, morti tutti. E guardala. Boh, ragazzi. Dove vai? Ragazzi, se vi curo, dovete andare avanti, dovete fare le vostre cose. Dove va? Dove va? Ecco la cura. Scatena la tua forza interiore. Eh? Entrate nel campo. C'è il soldato dietro, tipa. C'è il soldato dietro, figa. C'è il soldato dietro. Ma come fanno a accorgertene? No, questa partita mi sta demoralizzando, ragazzi. Non mi hanno mai messo con un team così stupido. Ma ho perso partite in maniera molto più pesante di questa, eh. Ma un team così stupido io non l'ho mai visto. Anche perché essendo support, quando vai support, li vedi. Cioè, quando vai danno, vai a flancare e non vedi il tuo team. Quando vai tank, sei davanti a tutti, non lo vedi. Quando sei support, se stai dietro a tutti, il tuo team lo vedi. Li vedi che sono delle piffe. Ah, ma c'è la torretta là. Ah, c'è la torretta di Torbjorn. Ficca, è la prima volta che la vedo in questa partita. E noi non riusciamo a distruggere una torretta di Torbjorn messa sul payload. E niente, qui davvero i nostri compagni sono stupidi, eh. E un soldato se mi aspetti magari ti curo, no? Oh, crepa. Crepa. E niente, per tornare all'abilità maiuscolo. Ma c'è sempre un loro danno a spaccarmi il culo. Sempre, eh. Cioè, fateci caso. I nostri danni si fanno sempre colpire in maniera stupidissima. Mi sa che stiamo veramente ben perso. Mancano dieci secondi. Aumentiamo il ritmo, sta finendo il tempo. Qui c'è una torretta di mie. Va bene, ragazzi. Cioè, boh. Cosa vuoi fare? Cioè, boh. Mi è andata. Peccato, dai. Prima partita con Battist. Mi è piaciuto il campione. Molto bello l'eroe. Il problema è proprio il team qui. Che è stato bruttissimo. Eh, GG, I guess. Eh, oh, raga. Cioè, non riuscivano a fare niente. Ecco, ecco. Cioè, è Zegnatta che ha dovuto andare a fare il flank. Vi rendete conto di quanto facevano schifo i nostri danni? Se Zegnatta è dovuto andare a fare il flank. E tra l'altro ci è pure riuscito con molta estrema facilità. Perché quel soldato faceva cagare. Quindi sarebbe morto in continuazione. Vai, andiamo subito a trovare una nuova partita. Sempre. Con Battista. Partita trovata. E andiamo con Battista. Posso mettere la skin medico da campo. Dai, mettiamoci questa. Che non è male con quell'elmo che mi ricorda l'elmo Eva. Se non mi ricordo male. Si chiamasse Dialo. Non so se ce l'avete presente. Allora, vediamo un po' come andrà questa partita. E spero un po' meglio rispetto alla precedente. Perché alla precedente mi volevo cavare gli occhi. Sinceramente. Allora. Ok, uscire da qui sarà tosta. Però ci dobbiamo riuscire, eh. Volendo si può anche uscire da qui. Oppure addirittura dalla in fondo. Orisa, tu dovresti essere davanti a tutti, però. Io vengo con te. Devo curare il tank. Vai. Vai, 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 vai. Emo sommati tutti qui. Vai. Ok. Il nemico è una corretta. Non scordato. Campo di mortalità posizionato. Qui sareti al sicuro. Recupero completo. Corretta nemica individe. Rigenerazione. Faccio le sali. Sì, sì. Buono. Dai, uccidila. Eh, raga, noi andiamo avanti col carro, mi spiace. Ma perché rimanete là? Boh, va bene. Noi adesso veremo disintegrati. Essendo due supporti. Ma raga, ma sono solo io qui, eh. Ma non ho alcuni di loro. Ok. Buono. Vedete, qualcuno ha voluto andare là a morire. E niente, ci ho provato. Peccato, nessuno riusciva ad ammazzare quella Brigitte, davvero? Ah, brava. Dai che ti curo subito. Vai. Ma dai, ma che che ho ammazzato così, velocemente? Non ci credo ancora a Chirico. A culo, eh. A culo. Perché lei lì si mette a sparare a caso, guardate. Non vede nemmeno a chi sta sparando. A culo mi ho ammazzato. Va bene. Guardate il carico con me. Eh, senza di me. Un po' di danni si riprendono, ma. Buono. No, no, dove vai? No, no, tu crepi, basta. Ha rotto le balle. Non si può rimanere sempre così in vita in questo modo, eh. È vietato dalla legge, proprio. Viva! Ok, a perni. Attenzione. Ingazzo il limito. Sono sottotta. Resta in vita. È stato vicino al campo di immortalità. Non è neanche un graffio. Eh, raga, è un po' troppo, però, eh. Quando i loro due danni del team mi focussano insieme, mi sa che è un po' troppo. Leggerissimamente troppo. Per il povero Baptista. Difficile di sopravvivere a una cosa del genere. Eh, non è finita perché non è finita, sono d'accordo. Tanto però hanno ammazzato tutti. Hanno ammazzato anche Pafigno, lì. Eh, hanno ammazzato tutti, letteralmente. Torniamo un attimo indietro, aspettiamoli. Vai. Lasciate che dimostri come si fa. Come se non fosse mai successo. Bene, tu morirai. Raga, Sorisa, devi andare avanti. Vai avanti. Oh, raga, c'è meglio di così. Davvero. Niente. Anche qui abbiamo un team inutile, purtroppo. Purtroppo un altro team inutile. Orisa che deve andare avanti, non ci va. Genji che va sempre a flancare. No, vero, Orisa è l'altro. No, aspetta. No, Orisa, vero. Orisa. Orisa che deve andare avanti, non ci va. Il nostro Genji, buh, non pervenuto. La nostra Fara fa ridere i polli. Non l'ho mai vista fare qualcosa di interessante. Eh, portiamo avanti sto car, raga. Forza. Vale. Visto cosa succede a mettersi contro di me. E adesso non io a spararmi addosso, però. Una botta di salute. Campo di moralità posizionato. E niente Impossibile resistere a Brigitte Che ti arriva a me lì praticamente Sono davvero curioso Di provarla prima o poi a Brigitte Per vedere se anche io potrò fare queste cose Cioè andare di mazzafrustolo in faccia alla gente E one shotarla perché non possono Rispondere letteralmente con il danno che hanno Ma dai Ma guarda ma l'ha ammazzata ancora Brigitte Ha fatto forte quel campione Vabbè l'ha ammazzata Farah Della verità eh Muore prima che arriva ancora a dargli lo scudo Ma muori ma perché non muori Ma è Brigitte Ma che campione è Ragazzi ma che campione è Ma guardatela Poi lì ha asculato 20 HP sono rimasti Per carità Asculato abbastanza E niente Qua continuano a morire Vai avanti Vai avanti Orisa Hai due tank che ti curano Hai due support che ti curano Vai avanti Non ce la fanno Torna indietro Full vita Torna indietro Sta bene per quale motivo Ordini dal medico Ordini dal medico Rigenerazione Restate vicino al campo di mortalità Ok Dovrei aver tipo annullato la sua pioggia di giustizia E niente Io ho eliminato pure il mech di Orisa Ma è di Diva Volevo dire Ma niente da fare Cioè Brigitte Era l'altra parte Che sta facendo il macello Ha più danni Del loro danni A momenti Boh Ha più cure di me Ha più danni Del loro danni Non si capisce Eh portatelo sto carro Che meglio Come se non fosse mai successo Impossibile tirare giù quella fara Impossibile tirare giù quella fara Niente Certo lì ho smirato io Per carità Cioè devo mirare meglio Però Peccato Peccato Anche questa partita Buttata nel cesso D'altronde Oh Cioè quella Brigitte lì Ha fatto tutto lei Eh Giustamente Era il suo migliore della partita Ma cosa vuoi dirle Ha fatto letteralmente Tutto lei Guardala guardala Ah questa era il suo migliore della partita Beh Fa capire che partita di merda è stata Comunque Andiamo subito a fare l'ultima partita del video Con Baptista Eccoci qui Partita trovata E andiamo di nuovo con Baptista Mettiamoci la skin di Overwatch 1 Dai un throwback E vediamo se almeno una partita E vediamo se almeno una partita Lusciamo a vincere Perché a me non sembra Nemmeno che sta giocando troppo male Cioè oddio Non è che sta giocando benissimo Per carità È un campione È un eroe Che sto provando Per la prima volta In vita mia Però Non mi sembra Che sta giocando malissimo Curo la gente Il danno che posso fare Lo faccio E i campi di immortalità I tiro Cioè prima ho annullato Tipo un ultimate di fara Con il campo di immortalità Non so se siete accorti Eh basta Cioè non è che ci sia Molte meccaniche Con questo campione Cioè devi avere il tempismo Di buttare il campo dell'immortalità E poi Spammare pure danni Cioè non è che Devi fare chissà cosa Niente parlano tra loro Questi Dai abbiamo un Reinhardt Dovremmo sparare attraverso Il suo scudo Spicco il volo Ricordate Non ci arrendiamo Hai neanche un graffio Tappo di immortalità Posizionato Buono Mettiriamo su Reinhardt Reinhardt però Se teneva in culo È un po' difficile per me Per portarti eh Dai Mi hanno one shottato Non ho fatto tempo nemmeno Né a premere maiuscolo Cioè l'ho premuto maiuscolo Mi ero già morto Guarda M'ho shottato Via Mi sono sentito un colpo in faccia E poi morto Reinhardt Eh oh Reinhardt però Che cacchio fai Eh poi mi arriva sto coso Oh Eh niente Sono riuscito ad ammazzare Genji Ma nel frattempo Tutto il resto del loro team Giustamente Non avendo nessun ostacolo Tra me e lui Mi ha disintegrato Magari Se Reinhardt mi aspettasse No Aspettasse Il nostro team Eh Dobbiamo andare avanti Eh Eh Reinhardt E se magari Giangkrat non fosse FK Ma c'era il campo di immortalità Dall'hanno distrutto mezzo secondo prima Ma Che culo Guarda quando muore il campo di immortalità Boom Mezzo secondo prima di aver finito la sua ultimate Non è stata la mia performance migliore No è che è un possibile Di fare con questo team Che battista Devo essere io a far danno Vi rendete conto Del fatto che non va bene questa cosa Vale Ah Perfetto Niente ragazzi Sono io che devo andare a fare danno Perché il mio team non fa niente Ma ecco Esattamente Cioè 2500 danni Ha fatto dei danni L'altra L'altra non sta giocando Ma c'era un FK E' per quello Che non riusciamo a giocare Allora Laghino Mentre se in me 3 è riuscito comunque a morire Con tanto di mie cure Mio scudo di Oh vieni qui Niente Campo di immortalità posizionato Lui va via Ok 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 Da dove sparano Da lì Buono Buono Dai ce l'abbiamo fatta Almeno a prendere il carico Allora era la FK Che non ci faceva giocare C'era C'era Junkrat Che stava letteralmente FK Buttato fuori lui Abbiamo iniziato a giocare Dai di quanto non è morto Con la Tenti E niente Genji da dietro Io di nuovo L'ho annullato la sua ultimate Con il campo di immortalità L'avevo fatta bella Lì Mi sa che devo riprovarci Guarda che arrivo Eh mancano tutti Lui i nostri supporti Eh No so quanto ce la corronola Senza cura E appunto sono morti Malissimo Per favore Echo Forno giù Echo Se guarda delle cure Devi solamente tornare indietro Un secondo Ecco ma figa Ma stai ferma Cioè Buono Vabbè Lui è morto di nuovo È là per i cazzi suoi Praticamente Quando il carro è qui Per l'ultima volta No Eh no Che va andato il mio cuoso Perché è andato Perché è andato da in fondo Ottimo Continuiamo a spostare il carico È morto ottimo Come nuovo Resta in vita Avevo Reinhardt Non è che posso curarti Sparandoti il danno di tre ultimate Diventa un po' difficile La faccenda Buono Sono in gran forma Un giro di cure È bella lì Brava Guardiamo che non lo prende quella È possibile prenderle Un po' di danno Bravi Vai Refullato Attenzione Lì dietro Alla faccia del Bob Comunque Via Via Niente Non è riuscito a uccidermi Peccato Raga 9000 cure 5000 danni Di cosa stiamo parlando Con Battista 9000 cure 5000 danni Devo ancora tirare la ultimate Anzi ho buttato via la mia ultimate Raga Dai Raga dai Rigenerazione Nooo abbiamo perso Peccato Peccato Perse tutte e tre Ma a me non sembra di aver giocato male Anzi Vediamo un po' chi era al playoff of the game Orisa Orisa Era l'orisa Non l'ha giocato male Anche se si prendeva dei danni in faccia Clamore Eh qua Quando ha ammazzato quattro persone Eh Sì Giustamente Giustamente Bene dai Quindi Anche per questo video È tutto Io vi ricordo di lasciare un bel mi piace Se il video vi è piaciuto Di commentare Facendomi sapere sia cosa ne pensate di Baptiste Come eroe Sia Dandomi magari dei consigli Su come usarlo al meglio E iscrivetevi al canale Per non perdervi i prossimi caricamenti Da Glaciosphere È tutto Al prossimo video Al prossimo video